Aumentano i contagi Covid e si teme l'aggravarsi della pressione sugli ospedali. L'intervento di Renato Costa. Un'apposita circolare è stata inviata alle regioni. Il commissario per l'emergenza Covid a Palermo, Renato Costa, interviene a fronte della progressiva e intensa impennata dei contagi, in riferimento soprattutto alla temuta pressione sugli ospedali e afferma che siamo abbastanza attrezzati e l'attenzione di questi giorni è sempre massima, come nelle settimane passate quando la forza del virus si era affievolita. Ma oggi abbiamo una media a Palermo di circa 3.000 contagi al giorno e la situazione negli ospedali comincia ad essere di sofferenza. Tuttavia il sistema sta reggendo bene, come sempre, conclude. I ricoverati negli ospedali in Sicilia complessivamente sono 1.048, 39 ad Agrigento, 48 a Caltanissetta, 217 a Catania, 31 a Enna, 117 a Messina, 377 a Palermo, 82 a Ragusa, 51 a Siracusa e 86 a Trapani. Nel frattempo alle regioni, compressa la Sicilia, è stata inviata una circolare che sollecita il potenziamento delle misure organizzative in risposta all'incremento della domanda di assistenza sanitaria a causa della pandemia da Covid. E si legge, si ritiene importante raccomandare l'attivazione delle misure organizzative atte, affronteggiare nelle prossime settimane un incremento della domanda di assistenza sanitaria legata all'infezione, sia a livello ospedaliero che territoriale, garantendo l'adeguato ampliamento dei posti letto di aria medica e di terapia intensiva dedicati al Covid, da modulare in base alle necessità contingenti e la corretta e tempestiva presa in carico dei pazienti affetti dalla malattia in relazione alle specifiche necessità assistenziali, con particolare riferimento alle categorie più fragili.